ciao davide ciao davide ciao bene bene grazie hai vinto questo sort e questo magico sorteggio complimenti abbastanza stupito e contento sa che se in italia adesso sì sì sono a casa sono a casa anche adesso siamo a rimini ottimo siamo riusciti a fare tutto vicino sei di genova di genova di genova non sono mai stati si mangia bene se non sei mai stato le cinque terre mai 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 infatti dovrei andare dovrei andare io ho una casa di famiglia di molto bella e consiglio di di venire che è un posto molto bello turistico complimenti per la gara di domenica grazie grazie davvero grande grazie complimenti davvero quali sono i tuoi film quindi per le prossime gare provare da ecco provare ad andare forte anche a jersey innanzitutto vedere come va la moto lì e se 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 si comporta bene se si comporta come ci aspettiamo allora riproveremo dai a fare il nostro il nostro lavoro e cercare di puntare almeno alla top five e se invece ci saranno dei problemi e dei problemi che non ci aspettiamo bisognerà lavorare per per venirne fuori ecco come abbiamo fatto a in catar che poi ci siamo riusciti però dopo finalmente ci siamo riusciti a porti mao ecco lo circuito preferito comunque il mio circuito preferito è l'australia philippe island australia bellissimo io sono un ingegnere informatico mi chiedo vedo sempre i complimenti vista grazie insieme al reato meno di mese fa vedo sempre ingegnere di pista vicino a te che durante prima della partenza il computer collegato all'automoto che sa che sa che fanno giusto per la partenza li fanno che poi tu li cambi durante la gara in griglia quando vedi l'elettronico in griglia di fianco a me prima della gara lui fa fa questo ricerca di tutto se tutto a posto controlla se tutto a posto e una volta che controllato che tutto a posto stacca e sta in griglia non fa un gran lavoro al box durante i turni lì c'è lì c'è soprattutto è finita la giornata quando a fine giornata c'è un grosso lavoro sull'elettronica della moto per migliorare il piccolo dettaglio intorno telemetria se si trono che si è un lavoro interessante grazie franco è stato un piacere davide anche anche per me grazie per il tuo tempo e in bocca al lupo per tutto crepi lupo grazie e buona giornata grazie altrettanto ancora